Ho un mal di gola Mi sta venendo mal di gola, anzi Aiaiaiaiai Ci si sente il client? Si, si sente, perfetto Come vedete vedere ho scioppato un pochino Volevo loro due soltanto Perché l'ultima skin di Ugoat che mi mancava E questo stava bene, l'ho presa perché è antica Poi ho visto Veigar Veigar piace Lì c'è un quadretto di Veigar Anche se non posso farlo vedere Posso farlo vedere in realtà Non faccio casino Non riesco a inquadrarlo recentemente Eccolo Tengo Katarina, Lux Eh si, Lux, Jinx e Lux Giusto per ricordarmi I champion che so giocare le due E gli altri due Cazzo Va bene, l'ho rimessa a posto Penso di sì Penso più o meno di sì Ok, intanto ho fatto passare ben un minuto A fare questa stransata Buono Via Daniele Gozio Sì, duple Questo momento deve essere un sacco figo Anche se Ashe l'ha fatta più vecchia Di quello che pensavo fosse Almeno dalle immagini che si sono viste Pro? Comunque non me ne frega molto di prenderlo Quindi ci mostrare Ha già una missionera Vince una partita in Bizzanescus Con un campione di Demacia Di Demacia Di Demacia sono Garen, Jarvan Shibana dovrebbe essere Di Demacia Lux Di Demacia ce ne sono A fiotte Torni un secondo Così almeno se mi guardano qualcosa Che so usare Che vogliono so fare usare Almeno lo sblocco Dunque Di Demacia Di Demacia Di Demacia Chi ci abbiamo? Allora Vabbè ovviamente sono I più ovvi Garen Sono Lux Jarvan Lucian Pesavo se Di Di Demacia Di Demacia Morgana Di Demacia Morgana e Kale Sono di Demacia Ok Fiora Poppy Non pensavo fosse Band of City Queen Shibana Vain Shinzao E Galio Ah vedi anche Galio Effettivamente che posso usare Va bene Solito In gola sia Perché in gola Non sono buono Evitiamo di scoppiare Che la gola Non mi deve essere d'aiuto Mamma mia Dunque Allora Di quelli che so giocare Sono Lux E Galio Di quelli che mi piace giocare Sono anche Shinzao Vain Poppy Morgana Garen e Sona Gli altri poi sono già Van Lucian Kale Fiora Che non so Solamente usare Fiora Queen Che non mi son capace Io E Shibana Che Shibana In Blitz And Nexus Deve essere di un'indebolita Poveria Senza draghi Che non ci sono i draghi Per potenziare le resistenze Oh Cioè Shibana è fatta apposta Per abbattere i draghi Perché è più forte Con più draghi Ammazzati Non ci sono i draghi Però Quindi Beh Ma Fui la P Immagino In In Si In In Blitz Nexus Se no Che è successo Non ci sono i draghi Che non ci sono i draghi In mezzo ai cavi Magari Intanto questo lo metto già qui così Sono già pronto Mi serve il secondo schermo Perché non funziona Allora Mi lo farai aiutare Questo cazzo di Bios Maledetto Questo non ci ho detto Che è colpa sua Non è dentro Questo qua Solito io banno Yasuo Che non lo voglio Yasuo Io solito banno Yasuo Jax o Mastery Mastery però Se non lo sa usare Comunque si può bloccare Yasuo Ci sono delle partite In cui non lo riesce a bloccare Se non lo sa usare Non c'è cura Quindi che se ne vado A quel paese Ma è Yasuo Perché nella squadra Non è mica Fai i culi Nella tua spada Mai visto Irelia Darius Carcali Fizz E Jax Bene Quindi io vado Di Lux Mi state dicendo Ciò Grazie La luce ci guiderà E con lei Vado di Dark Harvest No Vado Un'altra cosa Sì Sì Paroditan Sustain Con Lux Per favore Vediamo la Lux Se una volta tanto Questa che mi è utile Soluzione Sotto Producciare Sì tanto questo Mi servono a niente Prendere in spirito Colpo di grazia Questa Questa Che volendo Avendo messo Trascendenza Potrei anche non mettere Questa Però sono statistiche In più O meno da buildare Uso Elementalista Ma sì Dai Va bene Elementalista Vediamo chi dei nostri Gun Demarcerà di più Che è un nostro Non può dirlo Non è che devo Power Power Sai con Lux Però Tra l'altro Solo l'ultima Dello scontro Appare mi è anche meglio Ora bene Ora abbiamo contro Chi potrebbe dare E allora Se ci si buttano in mezzo Morgana e Kennen E Ginulta Siamo Defunti Male Se Ghi Evita il binding Di Morgana Non hanno altri controlli Hanno uno stun di Kennen Quindi se gli non riescono A fermarlo Morgana e Kennen Benissimo Di noi abbiamo Renga Che può Smembrare Jinx O Gin Non dico tanto Morgana o Kennen Ma Volendo Se ce la fa Meglio Lucian Eh A garanti Dobbiamo pensare io E Lucian Mi sa Perché avremo Un'autura di balle Con lui Incredibile Allora Jinx Dicevo Rengarie Che se si buttano sopra La sciolgono Anch'io Se mi riesco A prezzargli un binding In faccia Dovrei distruggere Gin La stessa cosa Anche se penso Che sia un Gin velocissimo E se è un Jinx Velocissimo Questo qua Io mi buildo Rely Andrisa che in generale Meno build Rely Perché con Questi Corrono tutti Jinx Gin Kennen Ci corrono in faccia Mi devo per forza Bizzare Rely O ci corrono in faccia O ci corrono via Che è peggio In entrambi i casi Comunque Ah già C'è un altro controllo Che non considero mai Perché è complicato Che sono Le granate Di Di Jinx Però se Jinx Beh in realtà Gli può fare il giro Può anche Non cogliere In faccia Le granate Servono molto più A impedire la fuga Che a Che a impedire Di correrti in faccia Probabilmente Manca il nostro Rengar Soltanto lui Sì Mi dava sì Che siamo organa Perché uno scudo Oscuro Impedisce il mio Binding Solo a me Solo a me Perché gli altri Non è che hanno Tutti sti problemi Ora che vedo Però neanche noi Abbiamo tanti controlli Merda Il nostro controllo È uccidere Di in fretta Che ce la possiamo fare Perché i controlli Che abbiamo Sono il mio Binding Il mio slow Che poi Vorrò anche Rely Quindi slow Vorrò anche un po' Di più Forse un route Di Rengar Se tirai Le bolle Spotenziate Il silenzio Il silenzio di Garen E quindi Dali Lussian non ha Controlli No Ghin non ha Controlli E loro a Controlli Sono messi Un po' Meglio Non lo so Vedremo Venga Allora Sono io Quello che stai Tanto in live Non tu Ok Magari Se andando Pure lui Tanto quella Jingsonit Col Tempo letale Può essere Può essere Che chiunque di loro Mi corre in faccia Ci dovrebbe fare Ad ammazzarmi Questo Mi preoccupa Parecchio Jings Che mi vuole in faccia Vuol dire che può ammazzarmi Garen Che mi corre in faccia Vuol dire che vuole ammazzarmi Jings Che mi corre in faccia Che mi scappa pure via No 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 Qua ci vuole Ero i lai secco L'unico elemento Che mi mancava Secco Dopo il Luden Seguimi Ti condurrò Al successo E alla gloria Glorious Ti fa dove Vado io in mid Vado io in mid Sperando 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 Porterò la luce Dove c'è l'oscurità Ecco qua Non devi dare cose Già vedo Kennenbot Milioni di nazione Un evocatore Si è riconnesso Ah Ciao Rengar Bentornato Speriamo Torni in fretta Perché sono Masterie Mella merda Garen Strendo L'occhio lì Perfetto Pronto Avete dato forza Alle tenebre La luce È la mia Viera arma Pronto Rengar Non mi piace È abbastanza luminosa Per te Se il saldimento Non è La scena Il saldimento Il saldimento Il saldimento Non è una scena Non è una scena Non puoi nasconderti dalla luce Grave non c'erano lì, che non mi piaceva un cazzo Che cazzo noia, peccato Se la niente avesse fatto pranzo a noi sarà ben buona Che merda Però ma c'era lì Però Ehi Beh, proprio la cuore, signor Dio, però Ma quello di due? Prendi quando è quella La determinazione ci fa andare avanti No Ma dai Che schifo di bimbing che ho tirato Eh, speri d'altro, ci spendo però Non mi è creduto molto No, ci sto facendo Di questo L'oro si trasforma in risorse No Non so più a leggere né a scrivere Che stavamo aprendo Non so, non mi può mancare mai di più In sé 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 Buona Buona però Se la fa Garen è buona però Mamma mia che palle queste varie Garen devi continuare a combattere perché qua Cazzo pensavo Buona 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 Sono abituato ad andare in bot di solito Quindi Che hanno vinto Trago dell'oceano Ok Non sto guardando neanche Questo condizio O meno Già immaginavo che arrivassero In realtà Non mi piace Non mi piace Non mi piace Che ne pensi di questo Talvolta mi lascio travolgere Dalle emozioni Quello che stiamo messa così male Questo non posso fare No Fa kill Fa c'è un attimo di play E' un attimo di potenza Di un attimo di potenza Di un attimo di potenza Grazie a tutti. 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 Una volta pensavo di saper giocare Lux. Non ho fatto danni, immagino. Che schifo. Ok, Lux in Blitz and Nexus non la prendo, va bene. Nonostante tutto non la prendo. Lux in Blitz and la prendo, va bene. Che orrore. Che orrore. Che orrore. No, 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 no. Lo sapevo. Lo sapevo che mi correva. Tutti in faccio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok. Io ci riprovo con Lux. E cambio skin che magari porta sfiga. Cosa prendo? Tutte le skin di Lux. Guardo di Lux strega. Non l'ho mai usata probabilmente. Lux strega. Cambia, non cambia. Katarina. Se Giovanni e Jarvan come frontline. Per quanto Jarvan possa essere un cazzo di Malphite. E poi è un cazzo di Cassadin. Ah, quando li piccano perché... No, Malphite lo picchi per i meme. Per l'ulti. Cassadin mi lo picchi quando lo sai giocare. Poco mecco. Poco mecco. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. E... Transizione. Babba mia. Spero di non giocare di nuovo una Lux così pessima. Io dovrei essere main Lux. E' questo che mi fa male. è anche vero che non la gioco da... Tanto, tanto, tanto tempo. Però... E' sempre così Lux. Mica cambia. Ma se poi mi corrono in faccia perché non mi prendo la celerità che almeno vado più veloce nello scappare? Perché l'ho messo Dark Harvest anche? Che almeno se uccido... Se devo fare del male faccio del male seriamente. Il messaggero della hand del Blitz al Nexus è più potente. Confece sia offi del messaggero sia al buff del barone. Eh sì. Ora, Catarina Cara, io vorrei sapere cosa vorresti fare tu. Vuoi buttarti su Jin? Forse. Vuoi buttarti su Echo? Ma scappa. Vuoi buttarti su Cassidy? Ma scappa. Vuoi buttarti su Jarvan e ti reingaggia? Vuoi buttarti su Walfai? Vuoi buttarti su Tianti Quattro? Ah, va bene. Proviamo. Stavolta vado in bot e vaffanculo. Continua a credere. Dai, dai, dai. L'oscuro. Chi ha preso? Ah, nessuno, infatti. Scusate, dove sono tutti? Oh, stanno invadendo loro! Maledizione! Credo. Eh sì, stanno invadendo loro. Centi! Via dall'inno di Sto'Aggiunga! Voglio che hai da una mano che contro i fumi e... Allora, cazzo, hai sempre cagliato il mio. Un po' colpo, un po' colpo, un po' colpo. Maledito o po' dos. Chifo! Senti cassa lì, ok Se lo scuserei più in venta di lui non ce la farò mai comunque Era di carry comunque il gym E devo dare un sacco di mana per depushare contro tg Cazzo Cazzo mi aveva baccato, ma magari non ci voglio aiuto Non me lo attiri a me il quarto colpo Ma che mana però quindi No Ma Alla La Alla Alla Jin Capisci a me Devo tornare a prendere un po' di mana Perché così sono impossibilitato Devo riuscire ad arrivare in post Ma ti fai tant'altro Se Giovanni non ha il triomfo Se Giovanni non ha il triomfo Vai se Giovanni non ha il triomfo Che caspita Che caspita Non c'era i danni che non c'era Oh no Non c'è Non c'è ma che mia idea Non su questo Ah Katarina E qua l'ultimo? No Poco di un cazzo posso fare Eh cazzo io ci ho provato ad aiutarti però No Ah 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 A me che fai il support loop Mi sta più che bene Magari l'avessi preso io Qua già ma non stavo neanche garegando Vavo malpite Cioè vavo malpite, vavo corchi Becco e Vali Vali e basta Sparano due pacchi di corchi alla volta Bravissima Seju Oddio non è l'ultimo Eccordi anche tu però Ragazzo mio Vavessi 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 Corchi Corchi Maregno Perché si va allentavano Cosa? Non sono tanto sicuro che i corchi che abbia allentato Non posso unicare la cosa di corchi che mi sono male io Mi sta nemmeno Guardi È la base della royale Che adesso? Stavolta lo faccio Stavolta lo faccio Veramente lo faccio Dov'è? No non è questo eh Caspita No Porca irracia Un aveato è stato ucciso Vabbè è meglio che morire Ora 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 Ecco Spacchiamo statore Per un'attività 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 Spacchiamo statura Aspetta Puttana Eva Eh Ragazzi Io me ne vado Come non sono morto Come io non sono morto Dove c'è scintilla c'è casa Ho bisogno anche la catapulta Vabbè Però devo correre comunque La tua squadra ha distrutto una turma Sono in pianca Sono in pianca Eh Ok No Ho voluto Corky Eccolo Chi fa uno di tutti Siamo in pianca 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 Mamma mia Non stavo guardando Non stavo guardando Ecco Non lo stavo proprio Cagando di striscio Cercavo di prendere Jean No Ma quando giusto Non ci vai a inseguire Catarina Non può andare Recently Bazione La reggola Mi appartona sc związare La reggola Io appartista Sì Non sguardo Miscordi Sor E' Non sguardo Comito Di La reggola . Non sguardo E' E' I Ok, cerchiamo di beccare Di non morire nel farlo Ha rottato Jin No Ok, prossimo item Diretto su rapido un tiro Direcorti contro Ecco è Jarva Puttana Che puttana Siamo stati esplosi Ragazzi se non spettate Muoio Puoi fare tanto ma non puoi fare tutto Sì, bravo Io e Korky non potevamo combattere contro Ecco i Jarvan Tutta la buona volontà possibile Ma non potevamo Cosa fa? Si è ammazzata a caso? Si è ammazzata molto a caso Ma non potevamo E io neanche tu non sei via me eh Dai non ci credo Cioè può mandarsene a fanculo col mio binding addosso, questa non la sapevo C'è una che soffia anche per tanti altri champion, va bene, però caspita Porca troia Non ci capisco quasi niente, mai con questi, mai Non posso neanche andare perché sono malpite Anzi malpite e jarran ci sono, perfetto Io non ci vado, ho fatto di aiutare se Giovanni Ma da un po' te Oh cazzo, vai via su, vai via Questa è la, solo conoscere se è quella nemica o meno Qualche modo l'ho salvata Ma te lo dico io, lo dico io se basta Ma è un po' Ma è un po' Ma credo io dei basi E' stato chi credava dei basi al più forte questa Io non ho t'invito, eh, che merda Ma ecco è Jhin, via Via Di qua Con tutta la cazzo di buona volontà Ma via di qua, che sono in fiamme e subisco più danni Mannaggia, ecco, mannaggia Mi devo fare la Zonia Mi devo fare Ok, dov'è Un alleato è statucci Ma in culo tutti Ma come ho fatto si gioca a sui Giovanni? Non ci vieni da noi, messi in me Cata, 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 cata Porca puttana di nuovo Però se i Giovanni mi riesci a salvarmi Devo usciarlo Buono, già per il fiamme è buono Dai Minion, quando puoi, minion, quando puoi Minion Ma non puoi, sì Ma vi miniono Ecco, là lo sappiamo Come arrivare alla cazzo Non ho preso il video Quando hai visto come ultimo item? Questo è sempre un bel È sempre molto invitante Ma no, mi faccio Il deadlock Non vuoi mai, davvero Non è che non è Non è che non è Corky becca Corky becca Corky becca poi Cata Cata Non è che non tu indietro perché sennò è la fine per me yes e hens corchi proprio tu hens che non vetti quando devi mannaggia oh jabbè ho giocato meglio Lux perché almeno riuscivo a bloccare ecco prima che mi uccidesse poi arrivavo a cassa d'impero dove lo uccidevo perca puttana kata anche se gli altri sono stati bravi orchi no kata è abbastanza brava è un tinker cristo gli scettoni e un scettone nexus che non mi serve più le tre icone già ce le ho fatto schifo non ho fatto a potrò fare meglio sicuro queste le ho fatte tutte le ho fatte e cos'altro mi resta quindi quante giù mi mancano per arrivare ad Akali 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 mi sta lova lova a lova me ne mancano 93 97 97 ok 97 si grinda malissimo in blitz si non so più giocare il campione di demacia quindi prendo quelle con cui trovi nei blitz al nexus che non sono campioni di demacia a parte Galio Galio mi stava abbastanza bene però devo riprendere la mano con Lux io mi sento dentro me in Lux cioè più o meno voglio dire mamma mia tra l'altro sbagliavo a buildare mi dovevo buildare il liandri contro Malphite Jarvan sono un imbecille ecco perché non mi facevo così cioè io ne facevo di anni anzi se io riesco in tempo ti hanno fatto catch salvage accidenti proprio dunque si banna sempre il caro vuol di Yasuo se nessuno lo vuole non c'è cura per la follia Jax, Vegas, Lux di Yasuo mi hanno bannato Lux che sfiga Pikachu banna Pikachu Galio va bene questo è Galio tutto è bene Galio è politico allora Nico e Darius abbiamo due AD siamo in due un alto AD è la fine dai finché io nessuno nessuno soffrirà non è politico ma e finisce il support mi sta bene fatta così la gioco senza Dark Harvest cerchiamola senza Dark Harvest e con la celerità è troppo forte secondo me la celerità di tanti centri sono anche uno di quelli sono anche a core tira un'abilità scappa corre sull'alleato tira un'abilità e scappa riduzione gericale che la metto con tutti gli oggetti che compra voglio dire sta skin è bella ma la splash hat è un po' strana non lo so cosa c'è la splash hat che non vada di Winter Wonder Soraka forse che il labbro qua il labbro della parte sinistra si è colorato un pochino male mi sembra che si stia muodendo un labbro ok già il fatto che vedo Maokai e Morgana vuol dire che devo buildarmi per forza il morello per forza morello nomico mi chiamavano me vado Soraka Support si vado Soraka Support sul lato apposta come oggetti mi trovi da estivali come ponete gli stili della rapidità quelli da 900 come i swiftness non quelli che danno 20 e poi 90 se non vieni con il combattimento gli altri e di loro rallentamenti cos'hanno lo Zatilux i fiori di Zara quando si prende il Rely perché Zara il Rely se lo prende forse Morgana si può prendere il rallentamento quando anche lei Rely ma vediamo vediamo io ho smesso di divertirmi devo buildarmi il Dark Harvest anche su Soraka che male cazzo faccio con Soraka Dark Harvest ma malissimo non male se è una terra brusata parto di E a volte sembra sottovalutato l'Ai di Soraka ma fa danno istantaneo in un'area in cui vuole e il nemico non se ne accorge perché come te ne accorge come il solo maledetto di Morgana tra l'altro devo anche vedere come sta andando l'all in line perché non so a interventi vari no vedi vedi bravo molto bravo questo mi fa capire che devo andare in qualcuno oh non fatemi scherzi voi due ragazzi qualcuno deve venire con ma io vedo con voi o come se andrà benvenuti in blitz al nexus offro il mio aiuto guarda guarda va bene in realtà molto bene cosa è stata di Binding tutto il mondo è qui ora di balla anche io non dorei saltare di E e va bene però ci abbiamo mai sprecare un respiro dove stanno andando qui due a posto di questo è un po' di maledima, ok bella feri non ho visto che ha messo la merda lui no 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 non ho mana per aiutarti quindi va a tenere non ne faccio questo questi belli loro tutto per essere support tutto heroes never die Morgana 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 per tenare e proteggere Morgana 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 ha 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 che ora Facciamo la gana. Ma l'ho visto troppo tardi. Ma vede dal granchio? Vabbè, noi facciamo il caso della sfida, ho capito. Che gioco la sto facendo? Si, la sconchina fisco. Si, la sconchina fai. Ma vede dalla strada, ho capito. Unico che granina di Sperma! Ja, no. Sì, non so, non so, non so, non so, non so. Non lo vede manco io, quindi me ne vado, va. Che build, dritto, dritto. Cazzo kai. Adesso, redenzione. Tutto il mondo in equilibrio. Mi sono diventato un Maokai, porca troia lui. Adesso, i diametri. Non è che non ti sa niente, 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 non ti sa niente. Che vuoi fare? Ogni passo è un nuovo. Non ti sa niente. Non ti sa niente, non ti sa niente, non ti sa niente, non ti sa niente. Non ti sa niente, non ti sa niente. Non ti sa niente, non ti sa niente. Vai via. scontro a premi con me non ti preoccupare l'oggetto se non uccide le mouse è il buono buonissimo non ho l'ulti oh no non ho l'ulti non devo fare che se vate Morgana contro Maokai e chi altro era è Shaco e non muoge il Shaco non muoge il Shaco muttana i danni non muoge il Shaco non muoge il Shaco non muoge il Shaco Shinn mi sto dentro di te arriva 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 per curare e proteggere devo tenere d'occhio mappa mappa tenere occhio io non so ragazzi se lo vuoi c'è un argocanchiotto non non e dai a un'attività che vedo no puttana assa non lo perdono in sicurezza prima che arrivi l'ultimate di Jinx e me la p***i in fame cambia molto eeeh mi faccio anche questo guarda uno in più uno in meno non è male vedo che lui sta facendo una cosa molto intelligente non visto grandissimo porco di male sono fuggita con giusta ragione un nemico è stato ucciso con grazie non ho l'ultimate sono l'ultimate un nemico è stato ucciso ah non mi faccio via un nemico è stato ucciso Ok ma la paura Sciocco un po' shottarmi ragazzi Buona così Sono pinto Sopaccio Vedi questo Deciditi però Eh io dovrei un po' beccare Ragazzi che vuoi Beccazzo Perfetto Dicevamo Non è un problema loro Ma vi devo fare comunque il Dov'è? Caspita Il carissimo amore Per la pace della mente La tua squadra ha distrutto una torre Capisco cosa vuoi dire amico Però Morgana sta difendendo da sola qua sotto Morgana sta difendendo da sola qua sotto Eeeh Non è anche da Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Non è anche da sola qua sotto Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Ma perché ho diseguito Morgana in mezzo a tutti Io non so come si è facendo sta fatta e ora il morello perchè è l'ultima cosa che posso pure vogliamo fare il morello nomicon ogni passo è un nuovo viaggio ho più salute ma ok non si cura merda morgana morgana molto ragazzata ma di quella grandissima macca ok io l'ho provato a scelare però ma che danno quell'affare va è pazzita ah lì abbiamo anche il messaggero mi sento me è morto una volta non ci vado sopra merda lì arrivo non ci vado non ci vado ma mi piace il mio morello nomicon più forte mi ha andato in stocione di Juru con luce anche una brava vita abbiamo vita? puttana per un pelo puttana per un pelo mi sono sposto troppe volte tantissime ed è per questo che un gioco sarà rasotto però 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 infatti ho fatto leggermente cacare ho fatto B più però sono fiori di aver fatto il mio full cura di questo cura non potevo darne ok apposht non devo fare missioni andiamo avanti stavolta dico che vedo sul momento su Blitz and Nexus prendo sul momento è per questo che non gioco con gli evocatori perché troppa tensione troppe cose fisse e vai qua e vai là Blitz and Nexus ti prende il cavolo che ti pare ti buildi come il cavolo ti pare a random peggio della dell'aram cosa adesso faccio un secondo di tempo mentre cerca la partita come sta andando la live come sta andando la live a livello proprio di connessione buffering e quant'altro perché ho abbassato da morire stavolto quanto ce l'ho? 150 200 200 200 poi ho una connessione incredibile quindi eh un po' indietro matta arrivo a Shinzo tanto bastava ignorare completamente Maokai vedi che Maokai è duro da ammazzare non lo ammazzare ah santo cielo vediamo un po' primo evento scontro premi ok bandiamo Yasuo allora danni abbiamo a pigolo 2 e a pigolo 2 chi potrebbe non fare danni Jarvan perché magari va più bruiser che tar più tar che bruiser devo riprendere una D chi prendo 1D che serve a giocare meraviglio lusso vediamo cosa picca mmm non ho una front line per giocare a D-Carry faccio la front line faccio la front line potrei fare la front line oppure agli ordini signore eh cazzo farai vedere un po' pensare in spirito colpo di grazia ma si vai bene così carissimo forse più ulti no 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 tengo quella devo ricordarmi che l'ordine è Fiar Corvo Risucchio Fiar Corvo Risucchio Fiar Corvo Risucchio perché se no perdo tempo è Corvo il suo toglie no con questa skin non è Corvo il suo con questa skin dovrebbe essere una motosega volante pelli operatoriali lui che si fa cagare però Fiddlesticks è carino credo sono un po' progetto così per fare compagnia a Gino devo fare una cosa mentre qua sta a caricare forse ce la faccio dove faccio ok a Gino Grazie a tutti. Corvi, Fia e poi alzo per ultimo l'assorbimento. Ciao, Jin. Mi sono rispettato un Feederstix. No, dove là? Wow, grazie Jinx. Perché è così grossa Jinx, scusa? Sai questa? No, non può essere Nicolò, ho dato la tua abilità. Oh, grazie. Via! Eh, potete avessi una manola io o tu io? Dai, dai, basta. Via da lui! Non volevo colpire loro io! No, da tutti! Andatevi raffreddati! Che cazzo di imparsi! Ci sono anche una maniera che si fa cazzo? Sì, se ne andiamo anche, va! No, no, no. Dovevo morire? No! No, 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 no! Da quello, ma che sicurezza. Stavo benissimo, ho proprio visto fare da bait versus gino. Bravo, andiamo, ce ne va. Mangia il canarino, mangia il canarino. Direi che è stato di... Zonia, va. Non si è stata di Zonia in teoria, ma è meglio così. Devo arrivare a livello 6 prima che inizi la... Lo scontro a paesi. Mi serve l'ulti, per forza. No, tu! Cattivi voi! Fuori dai coglioni! Guarda lei. E' nì. Piazza un po' là, piazza un po' là. Do so che c'è. Devo arrivare a livello 6. Che belli che sono i corvi! Eh, non ce la fai, G, mi spiace. Sponno, magari sono da solo. Trovo due chili. Trovo due chili e non sono... Boom! 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 E' di me asopera un po' tutto attacca. Ma Zarya cosa stava facendo? Mi stava guardando morire Zarya è rimasta da fare niente Va bene Non so cosa dire Non so cosa fare Non ho capito tu cosa hai fatto Forse vedendo la live vedrò perché non è venuta Però che cavolo Allora il drago dell'oceano? O il drago del vento? Sono tutti Tutti qui Eh va bene Loro in giungla non potevano sapere Ah loro stanno invadendo perché non l'avete invitato a fare Che magari spiegherai la torre Ciao Allora Io Però almeno Gini mi ha seguito Non l'ho usato è proprio questo Zygar se ne sta letteralmente battendo le balle vedo No cosa non si va Peccato Zygar ho già capito che non posso fidarmi Spingi in corretto 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 no no Ah la che botta che sembra di infasso a quella Elf! Ginger! So che sei bravo! Così non mi posso frequentemente fidare almeno! Avessi l'ulti! Dovrei mettermi la risoluzione anche sull'ulti! Io vado a vedere il messaggero, probabilmente se lo stanno facendo. Già ramperò, vai! Non lo so! Non lo so! Cazzo avessi dovuto uno in tempo! Ah ma cazzaio! Ecco che è successo! Non è ingaggiato! Non lo so! No sono cazzo di carità! Non lo so! Non lo so! Non lo so! E' un po' bravo. a 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 di quella grandissima pu- oh porca cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto non ho la zona più alla bar no no vai uccidila c arrivo puttana arrivo che va santo 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 vai va vedi eh quindi se mi muore non sapere si non dai in porta si non debilità zira debilità mamma mia ma cosa c'è dai fioi a fare però vedi lì va bene va bene per va ma che vedi va a ma tu! sto proprio con voi bella ehh però sto facendo il messaggero loro Non prendono l'occhio. Forti in profita. Io non vorrei ultare subito in realtà. Non prendono l'occhio. Ai, bastarda! Eni! Jarvan. Jarvan. Io non ci credo, Jarvan. Ha vinto l'oro? Sì. Non ho l'ultimo. Sì. Bastava mirare a Eni. Invece che... Si. Se uccideva Eni, era risolta. E invece mirare a Eni. Ma Jarvan! Svegliati! Oddio, che brutta cosa, che brutta cosa! Gin. E anche Morgana ha giocato bene. Ma Zyra e Jarvan, mamma mia! Guardate Jarvan e talità. Santo cielo! Asistenza magica, una ponte. ... Ah! Lo indecchè! Lo indecchè! Che c'era un critico! Piuttosto buildati il pulco dei gemi. Ma Che triste Ok Rossi Ho cambiato schermo Bene Questa barba che me la devo fare Sorrini No la barba non sorrini L'umano a cui barba sorride Urf Prima evento Se mi lasciano vega open Sono ben contento Ok Banniamo Yasuo Come al solito Non c'è cura per la follia Non c'è cura per la follia Prendi Orelia E Gli altri Zù ragazzi Zù Zia Niko Akali Zed Zri Alillaoi A me sto Bannino Stavendo vega Stanno tutti più che bene Sappi Che se i rivali fossero invertiti Non avrai fietà di te E uso Gandalf Come con il curling Non ho mai usato queste skin Non ho mai usato queste skin Possiamo Con il letto Con il letto è una di quelle skin che Eh Con lui non mi serve l'ulti in realtà Con lui faccio danno con qualsiasi altra cosa Semplicemente Quindi Stavendo Nah Stavendo un po' questi in realtà Cazzo Due figli Stixi Da wolf Come funziona la cosa A bestemmi eh Io so che Probabilmente non riuscivo a fare niente di quello che voglio Gente che corre Bestia E mo Ho sbagliato Altro sbagliato Ah Non è che andrà in full tank Tanto vega Funziona comunque Full tank Rimane la piena full tank Che ne abbiamo contro Pia 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 Cazzo Cazzo Che tra l'altro Guardate questa comp Il nostro Jax Farà schifo Il loro Jax Farà due pentakill Così a occhio Mamma mia puttica Da la carne Stavano e Garen 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 Caro mio Segui il team Sono l'unico Silver In mezzo a 4 gold Un po' fuori posto Sei buona tu La stupetta che rompe Non è Willem Poi non è Willem Col predatore Ok È una perioda di tempo Secondo me Il predatore Non lo so Mi sembra Una perioda di tempo Un pochino Perché se già lento Avevi il predatore Attivi la palla di neve Ma L'attivazione della palla di neve Ti rallenta tanto Perché la crea Si salta sul posto E la crea È Un po' come mettere il predatore A Feederstix Se vedono il predatore E poi vedono Feederstix Un po' se lo aspettano Sta per arrivare L'ulti di Vega L'ulti di Feederstix Se vedono il predatore L'unico che ce l'ha È Feederstix Poi ci saranno tanti Magari con il team Ti confondi Vega 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 È tutto Verdeggiante Karathus Sta da solo Gravel Va con Karathus E io resto da solo Benvenuti in Blitz Al Nexus Perché è da solo Quanto tre stronzi Sono un campione immobile Per la ponte divina No Ho paura che ci sia Blitzkunk Da qualche parte Quindi io me ne vado La magia Mi sta chiamando Dov'è Blitzkunk? Ok guarda Vega Vega Tu non credi solo Che piacere Vedo un piccolo Blitzkunk Qui Mi sa che Conviene Vedermi per secondo La Punto di nuovo ritorno Più Purtroppo Prima Perché se la vedeva È buono spray Con uno vero Ok Ok Vediamo un assalto Di Sì E noi Che dovevamo fare Scusate Sì sì Fidati Fidati Sono stupido They see me Spinning They hate it Ok 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 Oddio Con il mio punto di nuovo ritorno Se volete Ragazzi Boom Deja Biste Quasta malissimo È Eh, però gara è in tutto questo perfetto Gara è diseguito in mezzo a quattro Speed sticks, eh, speed sticks è meraviglioso Becco e mi prendo, ehi là Perché becco e non guardo quello che sto facendo, nel frattempo che becco Kartus, kartus, kartus Eh, mi fanno male, ma non lo stai Ehi Tombati Ecco anche io Giusto, giusto gli stivali Tanto mi leggero probabilmente questo E ora via di abilità E' un paletto a limibali, eh E' un paletto a limibli E' un paletto a limbi E' un paletto a limbi E' un paletto a limbi ragazzi Jackson 100 di passiva as always no fammi prendere la loro età non so a volte è buggato e non mi fa prendere la velocità 180 di passiva a 6 180 di potere magico a 6 minuti credo qualcuno no non c'è venuto qualcuno voglia tagliare una mano non c'è venuto perché non c'è venuto non 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 ma non Ho sbagliato aiutato Ma noi Quel Jax è in mezzo a tutti E sta facendo un po' la gialla Quel Jax Quel tale Jax Cazzi Bellissimo Bellissimo Bravo Bravo Guarda il ballo Ahah Guys Basta Andare uno di cinquanta Bravo Idle Però Andiamo eh Non so Che è saltato Io uso mana No Perché ho il Mega buff Non lo inseguire No I corvi Porca Ok ma che culo Un culo sto qua Che come mi sei basato in testa Bada boom E' inizio Anche Non ho mana E voglio buildarmi Bellissimo lui Eeeh Ma in realtà mi buildo questa poi Profumo di morte Arrivo Blitzcrank Non è abbastanza di me? No? Dai capita Per il nostro Jax Perfetto E io non vedo niente di cosa c'è Quindi Giù Via 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 Vora così Ah sono in fiamme Ma bella Bella Ma te ne affanculo un po' Quanto è arrivato veloce Quello tessero Mi sono appaventato tantissimo Non avevi più da fare Ti dobbiamo lo aiutar qui Quanto c'ho io Sluo 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 Dini mi te Dio Merda Un culo Penso 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 Mi avesse visto Che ero lì Bella Bella Nostro gioco Sto giocando meglio Delicex nemico E' incredibile Che una volta tanto Succede anche questo Lasciate stare i miei alleati Cani No Occhio eh ragazzi La tua torre è stata Andiamo a prendere in uno Va Che spovero idiota Bellissima Fiddle Scusa Non me l'avevo visto Dai Non si vuoi Un capo Va bene Non puoi lasciare Vega open Quando c'è Blitz and Nexus Ehi Buongiorno a me E a chi non me lo dice Vai sul game Vai sul Cazzo di game Ok Honor All'unico Jaxx Della mia squadra Che funziona Una volta tanto Mai successa Veramente Una roba del genere Pensavo fossero Le gente metropolitane Che i Jaxx Delle proprie squadre Fossero forti Invece Cosa ho fatto A meno Dai Potevo fare di meglio Sicuramente Sto Jaxx Sapeva che doveva Ah Sto Jaxx Trollava Però Se l'ha buildato Contento lui Poi si vede solo quello E nulla più Io penso funzioni tutto su questo Su Jaxx Però aspetta Magari il critico Magari giusto Giusto il critico Però tutto il resto Gli fa molto comodo A Jaxx A questo Anche un Beiga Probabilmente Come ultimo item Bellissimo Il bastone stoico Ia Suicide V2 Ah questo Giocava Yasuo E io te l'ho bannato Come ci si sente A essere Noioso Bannati Canto se Fiddlesticks Hanno comunque Fatto Piddle Beh non sono stato Molto in fight Però Buona così Come sta andando Nella live Il frattempo A che punto sono Dietro di anni Presumo Non Così tanto Deve andare Molto peggio Quanto mi manca Da Kali Dopamente Lo giocherò anche Stasera Per Poco Perché non ci sono Tutta la sera In realtà Però Per portarmela A casa Stasera Kali 1718 Beh che tanto Qualche Prima vittoria Del giorno Col pass Perché ho preso Il pass E la sblocco Questi Spero Mettranno Qualcosa Almeno Il Dieci senza E blu Per dire Tosto Mamma mia Quanto va male La live Ma perché Ultimamente Va così male Se la commissione È veramente così Pessima Può essere Comunque Adesso Ma poi Fai sul Coso Non ho transizionato Vuoi manca poco Da Kali Edizione prestigio Ho scoperto Che si possono Ma perché Fate le skin Che ci vogliono Queste madonna E quelle altre Per sbloccarle E comunque Le fatte Che si possono Randomizzare No Scusa Almeno Akali Akali Kaisa E Atrox Che deve uscire No Almeno loro Sono ancora Ancora Quando stiamo Usando la prima Torre Che prendiamo La benedizione Di Blitzkank Stare sempre I miei Leati Va bene Direi che Tanto adesso Sono le 8 Quindi chiudo Appena finito Di andare avanti La live Di finita qua Chiudo Allo streaming E ci vediamo Poi domani Però devo aspettare Che finisca qui Non stavo in silenzio Magari Convento Come è andata La partita Adesso noi Ho mosso La telecamera In quel modo Ok Ma di stupide Ma quelli Ci sono sempre Mezza vita Di un Povero Jax Disperato Dai Dai Cattivissimo Incattivisciti Bello essere grabbati Beh Flash Q Bello per Blitzkank Essere grabbati Capisci Tutto l'odio Del mondo E qua Scappai Scappa E come Flashare L'ultima etichetta In flashare L'ultima etichetta Di Cartus Ti arriva in testa Tanto Mamma mia Poi non so Se era per la Velocità Che ti dà Il nexus La fontana Quando esci O altro Non quanto correva Con la palla di neve In mano Maledizione Ok Sembra che sta andando Comunque Senza Bloccarsi Posso Devo aumentare Un po' Il bitrate Perché Penso sia Per il bitrate Che sta andando Così piano Comento un pochino E vedo Come va Dove porto 250 A sto punto Appena Me lo fa fare Cosa me lo fa fare Anche adesso Sì Dove porto 250 E buona lì E C'è Non posso Mettere a mano I numeri Quindi devo Scorrere uno Alla volta Al culo Fatto Adio Nuno Nuno C'è Sei davanti Alla nostra Base Questo è un culatone Fidestix Che non si è fatto Grappare all'ultimo Probabilmente Spin Spin And spin Around And spin Altanto Fidestix Non l'avevo proprio Cagato io Ma c'era Mi aveva pure Ultato Cioè E ho pure dentro All'ultimo Infine Se non l'avevo Cagato Cavolo Salve Dica Sì Tra quanto E anche adesso Tanto Allora Mi cambio La parola Un punto di ruotone Giusto Per gradire La fine Ah boy Prendi Blitzcrank Prendi Blitzcrank Quando c'è Pega Disponibile Mi grabba Ho grabato Forse una volta Sola Tanto Quel Blitzcrank Sì Mi ha grabato Una volta Sola Bello Bello il barbotto Vediamo appena qua si mette a posto con tutto Perché adesso non sto neanche più connesso Al massimo è connessa qui l'aroba Queste due le voglio randomizzare Perché ho tanto Tutte due Appena posso le randomizzare Perché non posso randomizzare poi Due skin e un aspetto lume E mi ne esce uno casuale tra i due Da una skin normale E una skin lume Si sta rimettendo a posto In cattiveria La vedo Vediamo Capisci tutto l'odio del Sta correndo veloce perché adesso si rimette in pare Visto che non sono connesso Come vengo alla volta Cioè è un po' come ho detto Ma l'ultimo infine Se non l'avevo cagato Cavolo Era disponibile Mi gamba Vediamo un po' Poi sono al punto giusto Inizia a fare in questo modo E vediamo Sì non dovrebbe essere tornato a posto Perfetto Fatto e detto ciò Ho fatto passare quei 5 minuti Ci potrei far rimettere a posto la live Anche se ormai penso sia scattata in avanti la live Quello ci posso fare proprio un cazzo Purtroppo Ancora non capisco come settare bene le cose Lo capirò prima o poi Spera Si sta rimettendo a posto Niente Ho detto ciò e fatto ciò Intanto qua silenzio tutto Perché non voglio sentire la mia bellissima voce Salve a tutti Grazie a che è passato Grazie a tutti quanti E alla prossima Che sarà domani Faccio Isaac Vado anche a ultranza domani Visto che è tanto venerdì E niente Salve a tutti Non mi sembra la mia Messa così non sembra neanche la mia mano Messa così non sembra neanche la mia典 bị